È un gesto significativo ed importante quello messo in campo da Calcet Arezzo e dall'azienda Monnalisa che in questi giorni si sono attivati per portare il loro contributo in tutto il territorio nella difficile battaglia contro il contagio da Covid-19. Le parole sono della Presidente della provincia di Arezzo, Silvia Chiassai, che appunto ringrazia l'azienda Monnalisa e Calcet che hanno donato alla Polizia Provinciale delle mascherine protettive. Per questo prosegue la Chiassai, voglio ringraziare il Presidente del Calcet Giancarlo Sassoli e il Presidente di Monnalisa Piero Iacomoni per la grande solidarietà e per il forte attaccamento alla nostra provincia permettendo alla nostra Polizia sempre in prima linea di operare in sicurezza tutelando la propria salute e quella dei cittadini. I dispositivi di protezione attualmente sono difficilmente reperibili e gesti come questo mettendo a disposizione beni che sono diventati di prima necessità e che in molti casi sono introvabili vanno a sostegno dell'intera comunità.